Ciao, come va ragazzi? Stiamo andando in un luogo segreto Io devo fare cose, cose nascoste però, non è l'area 51, però mi hanno proibito di parlare come se fosse l'area 51 Ehi, sono la gente di Gabby e benvenuti ad un posto veramente diverso Ecco, siamo finalmente arrivati, imparerò a giocare a Counter Strike forse perché in questo posto si spara Però siamo qui per trovare un allenatore, un coach dicono leggendario Una persona insomma che ha insegnato ai nostri connazionali a diventare dei campioni Io lo so, voi non volete aspettare, voi volete venire subito con noi a vedere di cosa si tratta, non è vero? Certo Perché questo Mirko Cenci ci insegnerà tutta l'arte dello sparare Venite con noi! Oh, cos'è questo? Vendono anche, non sono cucini È per dargli da mangiare se non muoio Ma questa è una granata, lo metti qua la granata Ecco qua, ecco qua, secondo me questa grava, secondo me facca i culi Adesso vediamo Rissucchierò già tutto il sacchino Ma noi ce la faremo Non so, veramente Che velocità, hai visto i movimenti? Proprio in un anno al secondo? Buongiorno Ciao 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 Buongiorno Sono l'allenatore della Nazionale Italiana Tiravolo, mi chiamo Mirko Cenci Ho fatto circa 30 anni come tiratore E poi nel 2002 sono passato a fare l'allenatore Direi che questi anni abbiamo scritto delle pagine di storia Con Rio 2016 ha raggiunto l'apoteosi del tiro Vincendo delle straordinarie medaglie Ben 5 Wow Guarda che Su Battlefield Io non ti voglio avere contro Allora devi mettere questo mirino rosso sul piattello Lo segui, piano piano, fai così piano piano e tiri grilletto Ok, ok Sei pronto? Sì, ci provo Pronto Marco? Vai Segui, segui Devi pigliare il grilletto È tardi adesso Vieni qua Non così facile come sembra Ecco Test audio Bla bla Hey Vai Ho simulato il rinculo anche se non c'era Ehi Oh Veramente Abbiamo un campione qua Prendi a me allora le prossime olimpiadi Ehi Vicino Vai Matt Oh Ok Adesso si è molto È tutto un'altra cosa Bella Ok ragazzi Adesso prenderemo i rispettivi fucili Certo E faremo una piccola competizione con pochi piattelli, pochi colpi E uno di voi due sarà il vincitore Preparati Sparati Avrai da mangiare la polvere da sparo Sparati Ah Ma no Dovevo portare olimpiadi Ragazzi tutto l'allenamento nei videogiochi mi ha portato a questo Oh Oh Uè Uno a uno Oh Fucili Oh Due a due Non posso sbagliare Io sono nato per vincere Vedremo Oh No Mamma mia Hai cheat Hai cheat lui Otto ore di nerding al giorno sui videogiochi fps Oh Perché? Sbaglale uno Oh Oh Adesso vi mostro come si fa Oh Oh Mannaggia Ah ragazzi La vittoria in pugno Oh No Smetto YouTube ragazzi Basta È tutto grazie al nerding abbi Le nostre nottate passate ai videogiochi È vero Sicuramente ci hanno allenato Un po' tardi Sì Riprova Hai staccato la testa l'ultimo momento È difficile Ah Mamma mia L'ho preso L'ho preso L'ho preso Bella Ok Ok The winner for this competition Is my friend New shooter Vado a piangere in un angolo ecco qua Quando tornerò a casa sparerò meglio nei videogiochi secondo lei Beh il videogioco è molto più utile che provare in casa con il fucile Perché qualcuno in casa potrebbe poi arrabbiarsi Eh quello sicuro Beh Gabby hai combattuto bene ma io sono stato il migliore Sì lui di notte di nascosto si allena e poi ecco perché mi ha battuto Alla fine è come ti è sembrato cioè questa esperienza ti è piaciuta a te? Tantissimo mi è piaciuta tanto ho sempre voluto provare a sparare in verità È stato un piacere combattere con te È stato un piacere direi di saltare giù C'è saltare giù